Ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Jonathan, io sono Ismaele, e io è Gioele. Abbiamo trovato una isa all'agriturismo dove abbiamo fatto prima il video. Secondo voi che cosa ci sarà? Aspetta, provo a scavare con un bastone qua. Con un bastone, aspetta, provo a scavare. Dai scava. In mezzo. Cos'è? Ma ci hanno fatto uno scherzo. Cosa? Aspetta, c'era qua. Forse devi scavare un po' più sotto. Vediamo. Intanto io blocco il video. Ancora più sotto c'è qua. Intanto blocco il video, chiamatemi se... Io intanto vado a fare un giro sull'altalena guardando i pulcini liberi. Ragazzi abbiamo trovato qualcosa. Sì, giusto, vero? Trova poco ma non me ne frega. Ecco. Cos'è? Intanto si sta bagnando il telefono di pioggia. Guarda, questo... Cos'è? Una bottiglia rotta e... Oh mio Dio. Un braccialetto. Un braccialetto. Ma perché ha scavato? Perché ci hanno messo una X qua? E soprattutto chi ha scavato? Non è mica il demone quello là a Fofillos. Vi ricordate il demone quello là che ci metteva paura a Fofillos? Sì. Sì, il demone a Fofillos con il signor uomo nero Yves. Dopo c'erano i due robot. Il primo robot era grande ed era rosso fuoco. Invece il secondo era piccolo ed era nero inferno. Perché anche l'inferno è nero a volte. Vabbè, mi sa che... Non vi ricordate tanto. Che voi eravate spariti. Comunque... Eh. E comunque... Ma perché ci hanno nascosto? Tipo... Questo... Questi pezzi di plastica... Questo... Questo pezzo sotto... Il bottiglia rotto pezzo sotto... Un bracciale...